Prima settimana da presidente della provincia di Cosenza per Franco Iacucci, già al lavoro su numerosi fronti. Sul piano istituzionale si è confrontato con il prefetto sull'opportunità di rendere ancora più incisiva l'azione della Polizia Provinciale, in coordinamento con gli altri corpi operanti sul territorio, in particolare per la prevenzione del contrasto dei reati di tipo ambientale. A livello politico, l'intenzione è quella di coinvolgere il Consiglio nella costruzione di un ente più attento alle esigenze del territorio. Abbiamo una coalizione, abbiamo i partiti, la provincia è un ente anomalo perché non c'è la Giunta, quindi bisogna costruire un rapporto con il Consiglio e con i consiglieri. Io utilizzerò sempre il metodo del confronto, poi vedremo un po'. Iacucci pensa anche di avviare un percorso su scala nazionale per riportare le province ad enti di primo livello. Insieme alla battaglia dell'amministrazione, diciamo all'impegno dell'amministrazione, noi dobbiamo iniziare insieme alle altre province un rapporto e un confronto con il Governo e con il Parlamento per ridare ruolo alle province come enti intermedio di coordinamento anche tra i piccoli comuni, i comuni, le regioni e lo Stato. Salvatore Bruno per la C-News24